giochiamo con la sabbia ciao mi chiamo riccardo e oggi giochiamo con la sabbia e questo è il mio albero l'albero ha bisogno di acqua e guarda cosa ho qui con me questi sono dei tubi per l'acqua e possono anche essere usati come formine unendo tutti questi tubi possiamo costruire un acquedotto tra questi due tubi abbiamo una valvola la valvola consente all'acqua di scorrere attraverso i tubi e ho qui con me della sabbia colorata abbiamo della sabbia di colore verde di colore rosa e di colore blu e guarda c'è anche un laghetto con tanta acqua dai iniziamo a costruire l'acquedotto benissimo il primo tubo è pronto guarda il tubo è uscito perfetto dai facciamone un altro e ora prendiamo della sabbia di un altro colore bene ci siamo adesso abbiamo un tubo blu un tubo rosa e un tubo verde e ora facciamo degli altri tubi ehi hai visto quanti tubi e adesso terminiamo la costruzione del nostro acquedotto incominciamo con il tubo verde dopodiché il tubo blu dopodiché il tubo rosa e adesso il tubo con la valvola e adesso un tubo verde e uno rosa e adesso ancora due tubi verdi un altro tubo rosa un tubo ad angolo blu e per finire un tubo ad incrocio rosa hai visto abbiamo costruito un acquedotto per far arrivare l'acqua al nostro albero hai visto abbiamo fatto davvero un bel lavoro d'ora in poi il nostro albero avrà sempre dell'acqua disponibile e potrà crescere a lungo per oggi è tutto noi ci vediamo al prossimo video e non dimenticare di iscriverti al canale e lasciare un bel like ciao ciao